Se per parlare di quattro anni non bastasse un'ora, figurarsi se basta un minuto e poco più. Ivan Javorcic sbarca Busto mentre la propatria si sta ripulendo di tutto il marcio che le aveva messa in ginocchio negli anni. Sbarca Busto in un'annata non troppo fortunata ma utile al costrutto finale, chiamato vittoria. La vittoria nel campionato più avvincente degli ultimi anni, nel duello contro Rezzato. Tra Javorcic e Busto città è subito simbiosi ed amore a prima vista. Con la tifoseria anche. Il tecnico spalatino vince subito tutto quel che si può vincere. Nel suo primo anno non può non innamorarsi della propatria e del suo tifo. In Serie D capisce in un attimo cosa significa il bianco-blu. Perdere spesso ma non mollare. Mai. Lo capisce nei minuti che passa da solo nel parcheggio dello stadio, aspettando la fine di Rezzato Lecco. Lo capisce insieme ai suoi ragazzi quando riporta dopo anni lo Speroni a fare praticamente il tutto esaurito. Il giorno del trionfo. Il giorno in cui dichiara fine partita. Vincere qui conta di più perché questa piazza ha sofferto. Dimostrando di essersi immerso totalmente nella realtà della busto calcistica. Lo capisce ogni giorno quando lo si vede passeggiare per le vie della città. Una città diventata giorno dopo giorno sempre più sua. L'anno successivo, quello in Serie C, è l'anno della consacrazione. La vittoria di Novara, regalo di Natale di Pisa con vittoria per 0-2, è l'emblema di quell'anno. Con il gol d'autore di uno dei tanti giovani che Iavorci ci ha valorizzato negli anni. Eppure il mister non ha mai dimenticato di ringraziare chi l'ha portato a busto, così come i tifosi ed i suoi ragazzi. Sempre parole splendide per Busto Città. Un rapporto di rispetto reciproco, magari di poche parole ma di tanta sostanza. Proprio come aveva detto lui l'ultima volta che è stato ospite da noi. Una meravigliosa storia terminata con un'annata fantastica, in cui la Pro ha riscoperto emozioni e piazzamenti che mancavano da un'eternità. Una meravigliosa storia che solo chi ha vissuto può ricordare provando una forte emozione, provando un forte brivido ogni volta che ripenserà a questi quattro anni meravigliosi, in cui Ivan Iavorcic, la propateria, la tifoseria e le persone di Busto si sono stimati, hanno vinto, hanno gioito e sofferto ben poche volte. Uno scenario quasi sconosciuto da queste parti. Grazie mister, eterno cuore bianco blu, è stato un privilegio vivere questa storia. L'affetto della città, quindi rispetto che ha sempre mostrato nei miei confronti, senza tante parole, perché io non lo sono e non penso che sia anche una caratteristica della gente di Busto, quindi gente di sostanza, gente che ha bisogno di fatti per dimostrare. Quindi ci siamo trovati anche simili nel modo di porsi. Grazie.